Al termine della sesta edizione di Farmacista Più chiediamo un parere al Presidente Mandelli. Com'è andata Presidente? Beh, direi un bellissimo riscontro di colleghi che hanno animato questa due giorni in maniera attiva, tante proposte, tanti dibattiti, tanti spunti anche su cui riflettere con tutto il Comitato Centrale. La vitalità della professione si è manifestata in questi quasi 50 convegni, in questi 250 relatori che hanno animato il dibattito, ma quello che mi ha stupito sicuramente è stata la grande partecipazione di questa mattina, nella quale abbiamo davvero avuto l'occasione di confrontarci con la politica per capire anche se la rotta che abbiamo tracciato dieci anni fa era la rotta giusta o era da correggere? Direi che l'impressione sia quella che siamo sulla strada giusta per far evolvere la nostra professione. Presidente, il clou forse di queste due giornate è stata la presenza del nuovo Ministro della Salute Roberto Speranza. Mi sembra che l'approccio nei confronti della categoria sia stato positivo, convenzione, nuova remunerazione, convalida del patto per la salute, insomma una mano tesa nei confronti della categoria. Che impressione ne ha avuto? Beh, una impressione ottima perché innanzitutto mi piace sottolineare che è stato seduto con noi fino quasi alle 13, quindi una partecipazione sentita, questa volontà anche di capire il contesto in cui la sua azione di governo dovrà essere esplicata. Io conoscevo già il Ministro per la sua attività parlamentare e lo sapevo persona preparata, attenta e disponibile. Oggi ha confermato queste tre caratteristiche, aggiungendo in più anche un'umanità veramente importante. Quindi un'impressione veramente ottima, ma quello che è più importante è lo stesso obiettivo, l'articolo 32 della Costituzione, che è un po' quello che anche la Federazione degli Ordini ha sempre voluto difendere. Lavoreremo, lavoreremo insieme con tutta la volontà di far cambiare la pelle ai farmacisti, ospedalieri, di territorio, a tutto vantaggio del cittadino e a tutto vantaggio quindi del Paese. Ultimissima cosa, un messaggio sintetico alla categoria per i prossimi anni, un suo input ai suoi colleghi farmacisti. Stiamo vivendo il cambiamento, il cambiamento è sempre un'opportunità, purtroppo devo promettere che dovremo fare un po' fatica, perché gli innovativi se ritorneranno bisognerà studiare, bisognerà applicarsi, dovremo cercare di standardizzare le nostre prestazioni della farmacia dei servizi. Insomma, il percorso sarà difficile, ma ciò vuol dire che sarà un percorso importante. Quindi la via che FOFI ha tracciato è giusta, la legge ci conforta, il Ministro è sintonizzato con le nostre aspettative, le nostre idee. Coraggio, rimblocchiamoci le mani, ma perlomeno abbiamo una grandissima possibilità di ridare un ruolo centrale al farmacista anche nell'anni che verranno. Grazie.